Noi d'Azza credevamo che il mondo e ogni oggetto in esso contenuto fosse vivo e abitato da spiriti e alla base della nostra religione c'erano appunto il culto e la fede in questi spiriti. Fu mio padre a spiegarmelo. Ogni cosa di questo mondo, diceva, ha un'anima o spirito che sia. Il cielo ha uno spirito, le nubi hanno uno spirito e così pure il sole e la luna e altrettanto si può dire degli animali, degli alberi, dell'erba, dell'acqua, delle pietre, di ogni cosa insomma. Questi spiriti sono i nostri dei e noi li preghiamo o offriamo loro sacrifici perché ci aiutino quando ne abbiamo bisogno. Noi indiani non credevamo in un grande spirito come pare che pensino di noi gli uomini bianchi. Credevamo piuttosto che certi dei fossero più potenti di certi altri e tra questi c'era Izzikamahidi, il creatore dei nostri padri, lo spirito del lupo delle praterie e Kaduteta, ossia la vecchia che non muore mai, la quale per prima insegnò alla mia gente a coltivare i campi. Sul conto di tutti questi dei si narravano lunghissime storie. Ognuno poteva rivolgere la sua preghiera agli spiriti e di solito riceveva una risposta per mezzo di un sogno. Infatti si pensava che tutti i sogni fossero mandati dagli spiriti e per questa ragione erano sempre presi in considerazione, soprattutto quelli che facevano seguito al digiuno e alla sofferenza. A volte qualcuno digiunava e si mortificava fino a quando non cadeva in una specie di sogno ad occhi aperti. Quella, insomma, che noi definivamo una visione. Sicuro com'era che il mondo fosse pieno di spiriti, ogni indiano sperava che uno di essi venisse a lui e diventasse il suo protettore, soprattutto in guerra. Quando un ragazzo era sui 17 anni, i suoi genitori gli dicevano «Adesso sei abbastanza grande per andare in guerra, ma per prima cosa devi andartene in cerca del tuo Dio». Intendevano dire con queste parole che il giovanetto non doveva rischiare la vita in battaglia finché non avesse uno spirito protettore. Ma trovare un Dio non era uno scherzo. Il ragazzo si tingeva il corpo con argilla bianca, come se fosse in lutto, e se ne andava fra le colline, in cima a un picco, dove gli dèi potevano vederlo, e per giorni e giorni, senza mangiare e senza bere, e spesso torturandosi, invocava con alte grida gli dèi perché avessero pietà e venissero a lui. Alla fine le sofferenze lo gettavano in uno stato di delirio per cui sognava, o meglio, aveva una visione. Qualsiasi cosa gli apparisse durante la visione era il suo Dio, venuto ad offrirgli la sua protezione. Di regola questo Dio era un uccello o un altro animale, oppure poteva essere lo spirito di un defunto. Uccello o bestia non erano fatti di carne ed ossa, ma puri spiriti. Allora il ragazzo tornava a casa. Non appena si rimetteva dal digiuno, se ne andava a uccidere un animale, come quello che gli era apparsi in sogno, e ne serbava la pelle seccata, o una parte di essa, come amuleto o medicina, perché in quell'amuleto abitava il suo Dio. Così, se gli appariva un Dio lontra, il ragazzo doveva uccidere una lontra e nella sua pelle, il ragazzo conservava, entrava il Dio. Da quel momento la pelle di lontra era la medicina del ragazzo. Ad essa questi indirizzavano le sue preghiere e la portava con sé in guerra, affinché il suo Dio potesse essergli accanto e proteggerlo. Gli indiani arrivavano perfino a offrire del cibo ai loro amuleti. Sapevano che gli amuleti non mangiavano, ma credevano che il Dio o lo spirito che abitava nell'amuleto mangiasse lo spirito del cibo. Bruciavano anche dell'incenso di cedro, in onore degli amuleti. Una volta mio nonno mi parlò di un tale, il quale aveva avuto la visione di quattro crani di bufalo che diventavano vivi. Molti anni fa, quando i nostri villaggi erano posti lungo il fiume del coltello, Nord Dakota, Un uomo, a nome Cespuglio, uscì per cercare il suo Dio. Desiderava che fossero gli spiriti del bufalo a mandargli la visione e pensò di torturarsi perché gli spiriti avessero pietà di lui. Legò assieme quattro crani di bufalo, uno dietro l'altro, e camminando, se li trascinava dietro. Risalì penosamente le rive del Misuri, lamentandosi e invocando gli dèi. Le sponde del Misuri sono molto scoscese e dirupate, e Cespuglio faceva molta fatica a trascinarsi dietro i pesanti crani per quel terreno accidentato. A una settimana di chilometri a nord del villaggio c'era il piccolo Misuri, un corso d'acqua poco profondo ma soggetto a improvvise piene, e qui giunto Cespuglio s'avvide che il torrente era straripato e continuava a ingrossarsi. S'arrestò sulla riva e gridò «Odei, io sono miserabile e soffro, voglio trovare il mio Dio». Altri uomini hanno sofferto e poi hanno trovato il loro Dio. Ora io soffro molto ma nessun Dio mi risponde. Adesso mi butterò nel fiume, credo che morirò, ma mi butterò lo stesso. Odei, se avete intenzione di rispondermi, fatelo ora e salvatemi». Cominciò ad avanzare nell'acqua, trascinandosi dietro i pesanti crani. L'acqua diventava sempre più profonda, finché non riuscì più a procedere a guado e gli toccò nuotare. Restò meravigliato di non avvertire più il peso dei crani e di non affogare. Poi udì alle sue spalle qualcosa che muggiva. Mu faceva quel qualcosa. Si guardò intorno. I quattro crani di bufalo nuotavano al suo fianco e lo tenevano a galla. Ma non erano più dei crani. No, carne e pelo li coprivano e avevano grandi occhi azzurri. E la lingua rossa erano vivi. Questa storia la raccontò a mio nonno Cespuglio in persona. E non si deve pensare che cercasse di imbrogliare la gente quando diceva di aver visto queste cose. Se ci fosse stato qualcuno con lui, mentre si buttava nel torrente e gli avesse gridato «Cespuglio, i crani non sono vivi, è il delirio che ti fa credere che lo siano», lui avrebbe risposto «Ma certo, tu non puoi accorgerti che sono vivi. La visione è per me, non per te. La carne, i peli e gli occhi sono puro spirito. Io vedo gli spiriti, tu invece soltanto i crani».